E' stata presentata questa sera la Biblioteca Comunale in Piazzatola la quarta edizione del calendario Piazzatola d'intorno del 2018. All'iniziativa ideata e curata da Mauro Calzaghe hanno collaborato il fotografo Gian Michele Manca e la costumista Monica Fiori. Protagonisti degli scatti sono alcune attività commerciali di Piazzatola del Corso Vettore Emanuele di Via Cavour, in cui i proprietari e figuranti hanno ripercorso attraverso l'uso di costumi storici un arco temporale dal 1600 fino agli inizi del 900. Obiettivo dell'iniziativa è la raccolta di fondi per Mattia Fadda, bambino di 6 anni che da un anno e mezzo lotta contro l'infoma di Burkitt che l'ha colpito. In Italia Mattia non può ricevere cure adeguate per cui la famiglia è costretta a costosi spostamenti. D'agosto il bambino segue un percorso in Polonia che prevede l'infusione di cellule staminali ed è stato visitato da un'equipe medica spagnola che ha deciso di inserirlo nei loro studi sperimentali. Le cure hanno costi elevatissimi perché Mattia ha bisogno quotidianamente di assumere integratori e farmaci. Una pagina Facebook a lui dedicata, tutti insieme per Mattia, si occupa della raccolta fondi e giornala sulla situazione in tempo reale.